Un po' di opinioni dopo aver visto Spider-Man No Way Home il primissimo giorno di uscita, intanto vi dico subito che tutto il video sarà spoiler, tutto il video. Parlerò delle scene che mi sono piaciute e delle scene che non mi sono piaciute, quindi praticamente parlerò di tutto il film, quindi se non avete ancora visto il film vi consiglio di andarlo a vedere se non volete alcun tipo di spoiler, quindi io vi ho avvertiti. Come al solito ci sono degli ottimi effetti speciali, però parlando del film in sé quello che mi è piaciuto intanto già dall'inizio è il fatto che appunto si scopre che Peter Parker è Spider-Man e si vede l'opinione pubblica che si divide a metà, cioè chi difende Spider-Man e chi lo detesta, chi crede che sia un assassino, chi crede a misterio ed è una cosa molto interessante, soprattutto il rapporto che c'è tra Ned, MJ e Peter appunto in tutto questo casino loro non lo lasciano, sono molto solidali. E poi si vede un approfondimento del rapporto tra Peter e MJ, appunto si vede la loro relazione che sta andando avanti, che comunque non si è spezzata dopo tutto questo casino, anzi che sia molto cimentata. E poi c'è anche Zia May ovviamente che alla fine purtroppo morirà, però tutto questo in realtà è un richiamo effettivamente al civil war fumettistico, il civil war dei fumetti, sia il fatto che Peter appunto scoprono che Peter Parker appunto è Spider-Man, questa cosa succedeva in civil war in maniera molto molto diversa nei fumetti, era Tony Stark a spingere Peter a rivelare la sua identità perché era dalla parte di Tony Stark nel fumetto, invece nel film è stato molto diverso e si scopre adesso molto più tardi l'identità di Spider-Man e appunto succede tutto questo casino tra cui la morte di Zia May, altra cosa che succede in civil war perché era stato incaricato un sicario di uccidere Peter Parker o Zia May, adesso non mi ricordo esattamente, però comunque alla fine un sicario in civil war uccide Zia May perché appunto si scopre che Peter Parker e Spider-Man quindi si scoprono anche i suoi familiari, i suoi cari e qua succede in maniera totalmente diversa ma comunque è stato un momento veramente toccante, effettivamente mi è piaciuto abbastanza. Un'altra cosa bella è appunto che chi ama Peter, chi sta vicino appunto i suoi amici e la sua famiglia soffre molto per il fatto che si è appunto scoperto che Peter è Spider-Man, vedi Ned e MJ che cercano di entrare all'università soprattutto all'MIT dove anche Peter cerca di entrare ma appunto per il fatto che tutti scoprono chi è in realtà è visto molto male lui e i suoi amici e quindi vengono respinti tutti quanti e questo fa soffrire molto i suoi amici e di conseguenza fa soffrire Peter perché fa parte del suo carattere, si accolla sempre tutto e crede sempre di essere responsabile di tutto e questo finalmente mi è piaciuto perché in questo film in generale si vede un Peter Parker, questo Peter Parker che soffre, che ha veramente dei problemi e finalmente sono dei problemi grandi. Una scena che mi è tanto tanto piaciuta è l'apparizione di Goblin che l'abbiamo vista anche nel trailer e che viene tagliata subito purtroppo perché Peter viene richiamato dal Dr. Strange ed è una cosa che un po' mi è dispiaciuto perché avrei voluto vedere proprio un confronto lì diretto, però in generale mi è piaciuta molto l'entrata in scena di Goblin con la risata appunto ormai iconica del personaggio interpretato da William Defoe e mi è piaciuto anche tantissimo il monologo interiore tra le due personalità di Norman, appunto Norman e Goblin nel vicolo che si vede poco dopo. Quello è un richiamo al primo Spider-Man con la maschera appesa, in questo caso a un cassonetto, nel primo film era su una poltrona in cui Goblin cerca di prevalere e convincere Norman e alla fine sembra che Norman respinga questa cosa e che rimanga saldo, rimanga lui stesso anche se poi alla fine scopriamo che non è così. Un'altra scena che mi è piaciuta molto riguarda sempre Goblin, ovvero il momento in cui scopriamo che effettivamente è sempre stato lui al comando e che ha lasciato Norman Osborn in un angolino del suo cervello a piangere e quella scena è stata molto interessante anche se effettivamente si poteva già intuire un po' in realtà anche dalla voce perché quando, se ci fate caso, quando parla Goblin e quando prevale Norman hanno un'intonazione abbastanza, non abbastanza, ma comunque un po' diversa e piano piano ci fa il callo soprattutto se vedi il primo film di Spider-Man, direi molte volte come ho fatto io, lo noti e infatti avevo già notato avevo questo sentore di maldrapino di Norman Osborn e ci ho azzeccato, alla fine si vede che effettivamente era Goblin e non Norman e mi è piaciuta molto la scena in cui inizia a combattere contro Peter perché Peter non si aspettava un avversario così potente effettivamente Goblin comunque ha una super forza e lo crocca di mazzate, gli fa un culo della madonna e si arriva poi dopo tutto un combattimento nel palazzo che è veramente fatto bene, finalmente lo croccano veramente di botte questo ragazzo si arriva alla morte di Zia May che è una scena abbastanza particolare in realtà all'inizio vedi Zia May che cerca di aiutare Peter perché lo vede in difficoltà poi arriva l'aliante che colpisce Zia May e tu dici oddio ha colpito Zia May, forse è morto poi la vedi effettivamente è viva però già da lì avevo intravisto qualcosa nel suo fianco che secondo me già avevo l'impressione che fosse stata trafitta e Peter non se ne accorge ma in realtà in generale lo spettatore non se ne accorge subito o magari ha già chi ha l'occhio un pochino più allenato già inizia a intravedere qualcosa però già proprio da come parla May, da come respira infatti si vede che è molto affannata, si vede che c'è qualcosa che non va e poi la vedi alla fine ispirare in quella scena, molto bella io per un momento ho pensato che Peter sarebbe uscito proprio di senno in quel momento e avrebbe attaccato la polizia, sarebbe stato molto interessante e per nulla male effettivamente finalmente Peter che reagisce a questa ingiustizia da parte della giustizia in un certo senso e li bloccano ovviamente, non è che avrebbe dovuto ucciderli ma li avrebbe semplicemente bloccati con le ragnatele, date quattro mazzate e se ne sarebbe andato invece no, è scappato però comunque effettivamente ci sta, è giusto poi la mia scena fucking preferita ovvero quando Ned apre per la prima volta un portale e vedi, intravedi questo Spider-Man dall'altra parte e credi cavolo, ecco Tom Holland dopo che era rimasto scosso dalla morte di Zia May poi noti effettivamente che gli occhi me l'ha fatto notare un mio amico perché sono andato in compagnia a vedere questo film, strano gli occhi erano molto più grandi della maschera di Tom Holland e lì subito pensi quindi, cazzo, quando piano piano si avvicina e noti i suoi lineamenti si vede proprio già dal costume, ma proprio anche dalla fisionomia dell'attore che quello è Andrew Garfield, porca puttana è entrato in scena, madonna, un urlo pazzesco in sala che so quando è entrato in scena col costume e soprattutto quando si è tolto la maschera però vabbè, era per forza Andrew Garfield chi altri poteva essere se non lui e poi quando è entrato Tobey Maguire mamma mia, quante emozioni in una sola scena veramente, quella è stata la parte che ho preferito del film perché mi sono veramente hypato e sono stato contentissimo finalmente cioè, alla fine si sapeva che sarebbe successo però è stata una grande emozione finalmente rivedere Andrew Garfield e Tobey Maguire soprattutto nei panni di Spider-Man dopo Tobey Maguire praticamente quasi 20 anni e Andrew Garfield, l'ultimo film che ha fatto se non sbaglio, nel 2014 quindi 7 anni, 8 anni, una roba del genere comunque anche lui da tanto che aveva lasciato i panni dell'uomo ragno quindi è stato molto bello rivederli e chissà se mai succederà che riprendano il loro brand Spider-Man 4, The Business Spider-Man 3 e così via so che sembra impossibile, però effettivamente anni fa sembrava comunque impossibile questo film in cui entrambi gli Spider-Man sarebbero poi approdati in un altro universo quindi sì, effettivamente io ammetto io stesso che è molto, cioè, è improbabile che succeda è molto aleatoria come cosa però pian piano stanno succedendo tutte le cose che pensavamo non potessero accadere quindi chissà, non bisogna mai perdere le speranze un'altra parte molto bella e toccante effettivamente è quando i due Spider-Man vanno da Tom Holland praticamente in questa scena, ambientata in questo tetto dopo che appunto Moretzi a mei e Peter è sconvolto i due vanno ad aiutarlo, accompagnati ovviamente da MJ e Ned e gli spiegano, gli raccontano cosa è successo anche a loro le similitudini, la morte di Zio Ben, il grande potere, la grande responsabilità e poi ci sono anche degli approfondimenti che effettivamente non mi aspettavo per esempio lo Spider-Man di Andrew Garfield scopriamo che dopo la morte di Gwen Stacy è diventato più cinico, più cattivo e che non ha più mezze misure quindi ti fa intuire che potrebbe aver ucciso anzi sicuramente ha ucciso qualcuno e ha croccato di mazzate moltissimo, moltissimi cattivi quindi queste sono cose molto interessanti che appunto non potevamo assolutamente sapere perché non potevamo solo speculare perché avevamo solo visto i film appunto che sono usciti e non ci sono stati poi i seguiti perché appunto poi si sono perse purtroppo le orme problemi di produzione e quant'altro e quindi non abbiamo potuto scoprire il futuro il seguito degli avvenimenti dell'universo di Andrew Garfield e Tobey Maguire però qua ne vengono un po' accennati e il che non è affatto male anzi è molto interessante ne sono stato parecchio stupito non pensavo assolutamente di scoprire cose del genere non sono poi cose chissà quanto enormi per carità anzi soprattutto per esempio si scopre che Tobey Maguire essendo lo Spider-Man più vecchio è riuscito a cementare una relazione con Mary Jane il che comunque ti lo faceva abbastanza intuire Spider-Man 3 col finale che è molto diverso dal primo e dal secondo però comunque quello lo potevi immaginare quindi qualcosa ti fanno capire non è tantissimo ma comunque non è per nulla male soprattutto per i fan di questi due Spider-Man riprendendo sempre il discorso Gwen Stacy è molto bella la scena in cui Andrew Garfield salva MJ e ovviamente in quel momento non puoi non pensare alla morte di Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man 2 e quella è una scena comunque abbastanza bella ho trovato forse un pochino caricaturale la reazione che ha Andrew forse un po' troppo buttata quasi sul comedy un pochino si vede proprio che fa questa faccia un po' slapstick un po' così da mezza commedia ma comunque si vede che è effettivamente commosso perché si ricorda della morte di Gwen è molto contento per essere riuscito in parte in un altro universo di essere riuscito a rimediare in un certo senso al suo errore di non aver lasciato che una tragedia simile si accadesse di nuovo quindi quella è una scena molto bella per quanto un pochino mi è sembrata un pochino comedi in un certo senso per la recitazione facciale di Garfield però comunque ci sta ci sta bello anche vedere finalmente Tom Holland che si lascia andare alla rabbia che crocca di mazzate Goblin dopo aver ucciso MJ e dopo aver ucciso Zia Mai scusate e che non aveva scrupoli nel volerlo uccidere quando prende l'aliante lo sta per scaraventare addosso mi sono proprio detto finalmente questo uomo questo ragazzo sta facendo qualcosa di sensato sta facendo veramente qualcosa da Spider-Man e uno Spider-Man estremamente emotivo porca di quella puttana bello anche il momento in cui Peter devi dire addio a MJ e Ned perché Doctor Strange sta appunto per far dimenticare a tutti quanti chi è Peter Parker per salvare tutti gli universi e il culo a tutto quanto praticamente e quindi quella è una scena molto molto bella bellissima bellissima molto toccante anche la scena finale in cui Peter dopo tutto questo casino aveva promesso appunto a Ned e MJ di tornare da loro e raccontargli tutto raccontargli tutto quello che era successo tutto quello che avevano passato insieme e i rapporti che avevano soprattutto con MJ e quando poi Peter rivede MJ e rivede anche la ferita che aveva in volto capisce che non saranno mai al sicuro con lui perché lui è Spider-Man e sarà sempre circondato da minacce e decide a malincuore ovviamente di non dire nulla e rimanere solo perdere il suo amore il suo migliore amico e di sacrificare finalmente quello che voleva sacrificare se stesso ovvero la sua felicità e mettere davanti gli altri effettivamente come dovrebbe fare lo Spider-Man dei fumetti è un vero Spider-Man quindi già in questo film si vede che Tom Holland si sta evolvendo finalmente c'è qualcosa di qualche spiraglio ma poi parleremo anche delle cose negative perché non è che mi è piaciuto tutto tutto il film però comunque queste cose finalmente sono uscite e sono molto belle stessa cosa bella anche la scena finale in cui si vede che abbandona tutti i costumi praticamente non so se sono spariti o che cos'altro è successo con l'incantesimo ma comunque si fa questo nuovo costume molto più fumettistico molto più fedele all'originale proprio quello dei tempi lì è Ditko senza gadget immagino a parte lanciare Agnatele e questo mi è piaciuto molto perché se non ha più il gadget finalmente potrebbe essere uno Spider-Man un po' più Spider-Man effettivamente un po' meno Iron Man e sarebbe veramente meraviglioso finalmente vederlo senza gadget senza aiuti senza tutto perché non si potesse era più che altro era Avengers facciamo comparire Spider-Man ogni tanto nei primi due film quindi anche se qui comunque è da Doctor Strange però comunque già qua è un po' meglio molto meglio e se magari succedesse questa cosa ovvero che continuasse da solo con molti meno gadget potrebbe essere qualcosa di finalmente interessante ora ovviamente passeremo a tutte le cose che non mi sono piaciute le scene che ho trovato un po' strane e che non mi sono tornate molto partiamo dall'incantesimo del Doctor Strange all'inizio che abbiamo visto già nei trailer che sapevamo che avrebbe scatenato tutto questo casino con i multiversi Peter in questo film è dannatamente petulante fastidioso e scemo cioè veramente è stupido in tantissime scene cioè in realtà è un po' scemotto sempre però qua è veramente secondo me l'apoteosi di quello che è sempre stato ovvero cioè lui è andato dal Doctor Strange per chiedergli di far dimenticare a tutti chi fosse Spider-Man e quindi far tornare segreta la sua identità è ok intanto qua molta colpa di Peter ma anche del Doctor Strange cioè proprio la scena che è sbagliata ovvero il Doctor Strange che non chiede assolutamente a Peter se c'è qualcuno che vuole che comunque continui a sapere che lui è Spider-Man glielo dice durante l'incantesimo e poi tutto va a puttane questa è una cosa assolutamente sbagliata era molto molto cioè sarebbe stato molto più logico e proprio sarebbe accaduto così se mai fosse esistita una cosa del genere nella realtà che il Doctor Strange avrebbe appunto chiesto a Peter Peter vuoi qualcuno ricordi che qualcuno continui a ricordare che tu sei Spider-Man lui avrebbe detto sì questo 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 e questo l'incantesimo sarebbe andato perfettamente e quindi proprio alla base l'incipit del film di tutto quanto è molto forzato estremamente forzato so che a molti piacciono le forzature però questo tipo di forzature è veramente era estremamente facile poterlo poter aggirare questa cosa quindi è per questo che lo trovo un po' sbagliato perché è molto molto forzato però a parte questo è proprio Peter che molte volte è maledizione cioè l'aurai voluto uccidere è petulante fa delle supercazzole inutili parla come una mitraglia e non si capisce un cazzo cioè si capisce cosa vuole dire ma sono discorsi vuoti appunto il Doctor Strange mentre stava cercando di fare l'incantesimo gli ha sparato una quantità di informazioni incredibile oppure quando è andato da da quella dell'MIT per cercare di far ammettere almeno i suoi amici gli ha fatto una mega supercazzola inutile tipo estremamente idiota cioè questo ragazzo è fuori di testa è fuori controllo in questo film c'è un minimo di intelligenza questo ragazzo che è un genio e lo si vede anche nella scena quando combatte contro il Doctor Strange e usa appunto la geometria per riuscire a incularlo lì si vede che è un genio però spara talmente tante cazzate ma non come battute ma proprio cazzate quest'uomo che veramente date un freno a questo ragazzo una scena che in realtà più che non mi è piaciuta l'ho trovata un po' ambigua è quando appunto Norman Osborn va da zia May per chiedere aiuto perché appunto si sa che zia May è la zia di Spider-Man May in un modo quasi sinistro dice a Peter perché lui sta cercando di aggirare le sue responsabilità di non affrontarle perché potrebbe aiutare queste persone ma non lo fa e le lascia semplicemente tornare ai loro universi quella scena è giusta perché per il contesto del film e del personaggio è giusto però non so perché ho trovato la messa in scena un po' sinistra cioè proprio come se fosse un'imposizione di zia May come se avesse qualche secondo fine che poi non c'è perché si vede a film appunto che poi muore quindi non c'è però è proprio mi è sembrato particolare proprio come messa in scena un po' appunto sinistra però alla fine è giusto è giusto per il film quindi non è un errore per carità però non lo so mi ha fatto un po' strano parlando di Tobey Maguire e Andrew Garfield a parte proprio l'inizio inizio quindi quando compaiono e la scena del testo per il resto del film li ho visti cioè si capisce palesemente che sono stati estremamente adattati per il Marvel Cinematic Universe hanno perso gran parte della loro occupezza sparano molte molte battute soprattutto Tobey Maguire che come sappiamo come abbiamo visto nei primi film di Raimi in tutti e tre in realtà non è chissà questo grande cabarettista non spara tantissime battute però comunque qualcuna la fa ne fa alcune ma non così tante non è così proprio simpatico diciamo c'è una comicità la Semra Imi spara alcune battute per carità però non così non così tante come si vede come si vedono in questo film e Andrew Garfield in realtà è più o meno uguale perché comunque proprio lui di sé nei suoi film poi non so quanto fosse sceneggiatura e quanto fosse magari improvvisazione le battute di Andrew Garfield però lui era proprio una macchinetta sparastronzata e quindi quello ci può stare Andrew Garfield più o meno ci sta ma proprio il loro tono la loro presenza proprio come si pongono si vede che sono stati estremamente adattati a Marvel Cinematic Universe e quindi molto meno seri in un certo senso e più simpatici proprio più appetibili a un pubblico di ragazzi magari e il che mi è dispiaciuto perché appunto era quello che li caratterizzava di più e adesso un po' tutti e tre si assomigliano perché ci sono queste scene un po' comide appunto un po' scemotte anche durante i combattimenti soprattutto cioè per esempio la scena in cui parlano del lavoro di squadra oppure chi sono gli Avengers ecco queste scene per carità simpatica la gag chi sono gli Avengers ok chi sono però l'ho trovata un po' mi è dispiaciuto vederli molto meno carismatici diciamo di come erano nei loro film propri mi aspettavo qualcosa di più anche nei combattimenti con tutti e tre gli Spider-Man ovviamente alla fine mi aspettavo qualcosa di un po' più coreografato in un certo senso cioè qualcosa di proprio più univoco perché si vede alla fine che si mettono all'accordo per come combattere come lavorare di squadra si vede giusto questa silhouette di loro che volano che oscillano e si mettono in posa e poi si separano bello per carità ma io avrei avuto proprio un combattimento all'unison insomma che combattevano insieme più uniti veramente qualcosa di veramente di squadra invece qua una cosa un po' così aleatoria principalmente combattono si dividono in mince per carità perché sono tanti però mi aspettavo qualcosa di più e proprio mi aspettavo un minutaggio su schermo maggiore per i due spider-man perché si vedono però non così tanto e soprattutto insomma sono non si vede neanche tantissimo questi due spider-man combattere per carità combattono fanno non è che sono inutili fanno tante cose però mi aspettavo un pochino di più e soprattutto mi aspettavo che toby mingway avesse comunque per quanto il suo costume sia ripreso molto dalla trilogia di reimi è estremamente diverso intanto molto più magro ma proprio perché penso che toby mcguire non abbia potuto pomparsi tra virgolette perché insomma avrà una cinquantina d'anni ormai toby mcguire quasi e già quando faceva spider-man nella trilogia di reimi aveva dei problemi alla schiena proprio dichiarati e quindi lì ok magari si allenava poteva aveva comunque 30 anni poco meno e quindi poteva farlo qua magari sono passati 20 anni non si è potuto allenare non si è potuto diventare questo mister muscolo e quindi hanno dovuto fare un costume effettivamente più piccolo più più snello che comunque è molto simile a quello di reimi però si vede che è diverso si vede che è molto diverso e vabbè questo non è un problema mi è un po' dispiaciuto ecco non è un problema però questa cosa del costume ecco più che altro stavo dicendo appunto che avrei voluto vederli un po' più a schermo un po' più presenti con proprio combattendo all'unisono o proprio i due spider-man magari non lo so messi assieme che combattono proprio un nemico per dargli un po' più di di attenzione ecco perché mi è dispiaciuto abbastanza perché si vedono ma mi aspettavo cioè speravo proprio in qualcosa di un po' più un po' più presente un po' più centrico insomma mi ha dato un fastidio estremo vedere questi tre spider-man che non riescono a tenersi la maschera per due cazzo di secondi ogni due secondi si tolgono la maschera in continuazione oh Spider-man di reimi era rarissimo vedere che Tobey Maguire si smascherasse si smascherava ovviamente però non così tanto e non così spesso Andrew Garfield pure l'avevo già trovato in The Amazing 1 uno che si togliesse un po' la maschera un po' troppe volte però comunque neanche così neanche così tanto qua invece ogni tre secondi si tolgono la maschera ovviamente per far vedere gli attori per far vedere Andrew Garfield e gli attori per carità però insomma avrei preferito che se la tenessero un pochino di più cioè che senso allora metterti i costumi cioè vai così in borghese fai prima invece boh io veramente ho odiato questa cosa ah una cosa che non ho detto prima e che voglio dirvi adesso Flash è la creatura più fastidiosa dell'universo poi ho notato che l'uomo sabbia e il lizard non quelli in CGI ma quelli in proprio gli attori veri non sono presenti effettivamente nel film sono presenti degli spezzoni di Spider-Man 3 e di Amazing Spider-Man 1 non capisco perché non abbiano ripreso gli attori per fare delle scene magari perché comunque penso che il budget per richiamare li avessero forse hanno rifiutato non lo so però mi ha fatto un po' strano sinceramente però nessun problema da questo punto di vista perché comunque non è che abbia stonato tanto cioè chi ha visto tante volte quei film lo nota subito infatti sono andato con alcune persone che non avevano visto tanti film così tante volte i film di Spider-Man e non l'avevano notato io l'ho notato istantaneamente perché proprio ho un occhio una cosa che non riesco a spiegarmi di questo film è il senso di ragno questo senso di ragno è tipo mezzo bacato funziona non funziona soprattutto nella scena finale in cui c'è toby mcguerr che ferma tom holland nel trafiggere goblin col suo stesso aliante lo blocca per fermo va benissimo ma il senso di ragno non gli dice nulla di goblin che lo sta per accoltellare dietro come cazzo funziona scusa per tre quarti ma non lo dico solo io anche quelli con cui sono andato a vedere il film hanno detto scusa ma che cazzo vuol dire funziona e non funziona sto senso di ragno ci sono momenti in cui tom holland per esempio quando capisce che goblin quando norman osborn in realtà è goblin e vuole fare il culo a tutti vuole fare il plot twist si ne accorge col senso di ragno però tre quarti di film sto senso di ragno funziona ma no che cazzo vuol dire ma non ho capito e alla fine questo era un po' tutto il mio la mia cozzaglia di sentimenti per questo film non amo il lo spiderman di toby sì di tom holland l'ho già detto in plurimi video questo film con la presenza degli altri due spiderman proprio con questo hype che avevo queste speranze che avevo l'ho molto insomma l'ho apprezzato molto di più rispetto ai primi due film con tom holland e questo è il miglior film su spiderman in assoluto no questo è il miglior film sullo spiderman di tom holland assolutamente di questa trilogia questo è il migliore di questo non c'è ombra di dubbio ma in generale no non credo proprio cioè almeno per il mio punto di vista poi ovviamente questo sarà il film preferito di miliardi di persone e di questo non ci piove io l'ho apprezzato molto per la presenza di due spiderman che ho molto apprezzato di tanto tanto fanservice perché chiediamoci questo film è totalmente fanservice e quindi è per questo che l'ho molto apprezzato in tante cose ma l'ho anche molto disprezzato in tantissime altre e quindi sì alla fine lo promuovo più o meno sei meno meno per me per me ovviamente per me costo personale non è voto oggettivo di no ovviamente questo è il mio voto personale del mio gradimento per quanto riguarda questo film poi ovviamente tutti possono questo film può piacere molto di più a tantissime altre persone magari può anche piacere meno ad altre persone però questo è quello che io penso che io penso che io ho provato guardando questo film quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo film con un commento qui sotto nei commenti io vi ricordo che in descrizione c'è il link al mio profilo instagram e al mio canale twitch e niente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale se non lo siete ancora condividete il video e noi ci rivediamo alla prossima